Forse colto da un malore, ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata nella campagna. E' morto così Ivan Lenzoni, 49 anni, nato a Brindisi e residente a Torchierolo. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di sabato, sulla strada statale 16, tra Brindisi e San Vito dei Normanni, nei pressi di Villa Barone. Lenzoni era alla guida della sua Dacia Duster, che per causa ancora non chiarite, è finita prima contro una pietra miliare che si trova accanto alla corsia e poi si è ribaltata nel terreno attiguo. Immediati sono stati i soccorsi, trasportati in ambulanza all'ospedale Perrino in codice rosso e deceduto poco dopo. La notizia della morte di Ivan Lenzoni ha provocato profondo cordoglio nel mondo del basket Brindisino, in cui era un apprezzato arbitro e anche un dirigente dei settori giovanili, umano e amato da tutti. I funerali si svolgeranno lunedì mattina alle 10.30 presso la parrocchia della Pietà di Brindisi.